numero 5 il set comprende 6 pezzi di diverse dimensioni e in nylon di alta qualità cerniere comode per l'apertura e la chiusura dei contenitori con questo set potrai risparmiare spazio quando viaggi l'ampio volume interno contiene tutti gli indumenti da viaggio scarpe trucco accessori per la rasatura e altro ancora leggero resistente all'acqua portatile pieghevole facile da riporre con questo set organizzativo sarà più comodo viaggiare numero 4 il set include 4 contenitori in nylon super leggero e resistente questi cubi di imballaggio mantengono la valigia organizzata e sarà più semplice trovare gli oggetti le cerniere a doppio cursore rendono l'apertura e la chiusura semplice e veloce la maniglia della cinghia è comoda da trasportare il set è disponibile in diversi colori numero 3 questo set di cubi da imballaggio è su misura per coloro che prestano attenzione alla qualità del prodotto questo set vale il suo prezzo il materiale è durevole e leggero puoi trovare questo set in sette colori diversi per una vacanza all'insegna dell'ordine e della praticità non puoi non acquistare questo comodissimo set numero 2 una delle cose più difficili da fare per il viaggio è mettere tutto ciò che vuoi portare con te nel bagaglio questi sei cubi di imballaggio risolvono il problema potrai sistemare ordinatamente tutte le tue cose il set è realizzato in nylon resistente con chiusura lampo e cuciture di alta qualità le reti nel pannello superiore garantiscono la ventilazione e rendono facile da vedere i contenuti numero 1 un pratico set da viaggio da 8 pezzi il set include tre cubi da viaggio con finestrella a rete per vestiti uno cubo per biancheria intima uno cubo per scarpe uno borsa da toilette a tre scomparti una sacca per i panni sporchi e uno sacca piatta per piccoli oggetti come calzini accessori di elettronica o chiavi i prodotti sono realizzati in nylon di alta qualità super leggero impermeabile e resistente agli strappi con questo set potrai viaggiare con più cose usando meno spazio